Sì che è un campo difficile, per quello sono più contento di questa vittoria. No, l'obiettivo non è cambiare niente quando uno sta vincendo. Credo che il primo tempo si è visto, dopo il gol che deve essere in ventaggio, che è sempre importante, abbiamo continuato a fare lo stesso gioco e cercare di controllare la partita e di chiuderla. Non è stato così e dopo, al secondo tempo, un po' prodotto del lavoro e del pressing più alto della squadra avversaria è stato più complicato, ma credo che alla fine abbiamo meritato questa vittoria. Ha detto che il lavoro e il pressing della squadra avversaria ha fatto più complicato il gioco della Roma. Ma c'è stato anche un calo fisico della sua squadra negli ultimi venti minuti? No, non l'ho visto così. Questa partita per noi diventava una partita molto importante per la situazione previa a quella che abbiamo vissuto. È normale quando la squadra avversaria da tutto e rischia tantissimo per arrivare a questo pareggio. e noi dobbiamo controllare questo e credo che l'abbiamo fatto. Peccato non aver chiuso la partita perché credo che la squadra lo meritava, ma alla fine sono tre punti che è quello che conta.